Saluta le tue fans! Ciao a tutti, complimenti davvero, avete fatto delle cose bellissime la volta scorsa. Volevo fare una cosa divertentissima oggi perché dovete divertirvi innanzitutto e utilizzando un'acqua come se fosse un acquarello si possono ottenere questi effetti. Utilizzo il mio monsieur, la mia nuit parisienne. Abbiamo preso anche il soffio già prima di cominciare la diretta, ho fatto già con la mia matita un disegno, ho caricato tutta la mia superficie che voglio dipingere con l'acqua. Prendo un po' di monsieur, un po' di bianco, un po' di carta e vado a togliere. Nel contorno insisto e picchietto leggermente col mio nuit parisienne. Prendo un po' di sale, io vado avanti e cerco di fare almeno un po' di foglie. Vado a fare praticamente la parte del ramo. Questo è l'effetto finito, questo è l'effetto finito delle foglie con il sale. Ci tengo a far capire loro che non è difficile. Ci tengo a far capire loro che non è difficile.